...e parte scuse incredibili del governatore militare di Nato Roma, che adesso teme un aumento della fiscalità, un nuovo blocco del turnover. Voglio ascoltare cosa non dire in merito i nostri commissari per la sanità, appunto Roma, che non ha partecipato al tavolo romano e non escludo la battaglia legale. In linea di prossimo arriverà in Monizia il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la Regione Abruzzo invece è stato cercato.